amici di freser tv in esclusiva dallo stadio di carpi con il direttore della provercelli direttore sportivo massimo varini direttore che partita è stata questa ma è stata una partita dove abbiamo fatto un errore abbiamo perso la partita semplicemente credo che se adesso non so vorrei vedere il possesso palla quando era fuori penso che abbiamo fatto un senso palla il 60 per cento secondo me è la b cioè non ti permettere di fare errori come quelli che abbiamo fatto nel gol e poi dopo sono stati non siamo stati bravi a rimetterli in piedi pur tenendo in piedi la partita diciamo che siamo stati meno brillanti di altre volte che forse ha concesso un po nel primo tempo mentre forse è cresciuto nel secondo non ha concesso niente concesso il gol si gol l'ha concesso perché ovviamente l'ha concesso ma io non mi ricordo altre azioni del gol del carpi forse sono un po sbadato ma forse io non me ne ricordo quindi non abbiamo concesso solitamente niente il carpi è una squadra che è difficile da incontrare soprattutto quando va in vantaggio ma questo lo sapevamo già e loro sono stati vantaggi sono chiusi noi non abbiamo trovato di spazi molto semplicemente questa è la realtà non siamo stati bravi a trovare spazio oppure quando li abbiamo trovati come con bani oppure nel primo tempo con l'iviero sinistra non siamo stati bravi a metterla dentro molto semplicemente difficoltà anche magari per il campo provercelli che abituata al sintetico diciamo così perfetto di vercelli mentre un campo in erba con qualche zola ha potuto creare qualche difficoltà gli uomini tecnici della prova ma il campo è brutto ma è brutto per noi è brutto per loro voglio dire che non andiamo a cercare delle delle scusanti certo noi sui campi così facciamo più fatica ma avevamo notato anche lo scorso anno non solo quest'anno quindi ci sta però non andiamo a cercare scusanti dobbiamo capire che noi purtroppo non possiamo permetterci errori per il gol di del calcio è un errore perché sappiamo benissimo che le qualità in baccobo sono quelle lì quel punto tu non puoi fargli fare 50 metri di corsa e al limite tenti fai fallo prendi la munizione per qualcosa insomma ecco siamo stati molto ingenui secondo me in quella situazione lì e abbiamo pagato l'ingenuità molto semplicemente inesima sconfitta 1 a 0 però c'è da dire che oggi la Provercelli non è riuscita a rimontare cosa che invece era riuscita contro catania anche contro il frosinone scorsa settimana parte ovviamente a vellino e modena che i gol erano arrivati al 90 vabbè ma questa è la bia non è un campionato così un campionato dove ci deve anche abituare purtroppo a magari valutare una prestazione assolutamente sufficiente più che sufficiente e che però non ottiene il risultato sperato credo che ancora una per l'ennesima volta vi ha dimostrato sappiamo stare in campo che la squadra dei valori quindi già è importante questo per il momento adesso fuori casa dovremmo cercare di essere un po più concreti perché dobbiamo cercare di portare via abbiamo perso tre partite sono tante sono poche dobbiamo essere un po più concreti e soprattutto evitare gli errori che abbiamo commesso nel primo gol